Philips inventa Turbo Drive, il più veloce videoregistratore al mondo. Riappogge una videocassetta di 3 ore in soli 95 secondi, con un'immagine nitida e brillante, come non l'avevi mai vista. Perfino le tue vecchie cassette si vedono come fosse la prima volta. La velocità è importante, ma la perfezione lo è ancora di più. Philips inventa per te. Grazie.